Per colpa della crisi 6 famiglie su 10 tirano la cinghia e si rivolgono sempre di più al discount riducendo quantità e qualità dei prodotti. Nel 2012 il 62,3% del totale ha fatto acquisti nei luoghi di distribuzione a prezzi più contenuti con un aumento del 9% rispetto all'anno precedente. Ci sono però segnali positivi per il futuro. Ad aprile 2013 l'indice del clima di fiducia dei consumatori segna un rialzo aumentando a 86,3 da 85,3 di marzo. Guardando alla situazione economica del paese anche i giudizi e l'attese sono in miglioramento. Non è però così per le aspettative sulla disoccupazione vista in crescita.